La seconda parte di Dune di Denis Villeneuve è uno dei film di maggior successo in termini di pubblica e di critica degli ultimi tempi. Sembra quasi che tutti debbano parlarne bene. Io l'ho visto e devo dire che, come è successo nel caso della prima parte, il film mi è piaciuto, ma solo moderatamente. Mi rendo conto che queste mie parole faranno subito scattare moltissime persone per accusarmi di non aver capito niente. Ma mi permetto semplicemente di invitare tutti alla calma e di cercare di ragionare sul film senza la solita polarizzazione che caratterizza ogni dibattito su internet. Perché una cosa o è magnifica oppure una schifezza senza gradi intermedi. Nessuno mette in dubbio che Villeneuve sia uno dei registi più straordinari dal punto di vista visivo della messa in scena che ci sono oggi nel panorama cinematografico. E nessuno mette in dubbio che vedere un film come Dune 2 al cinema in un IMAX sia un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. E non mettiamo nemmeno in dubbio il cast stellare che rende questo film un vero e proprio colossal. Tuttavia il film non mi ha convinto appieno, non dal punto di vista visivo, quanto dal punto di vista dei contenuti e della trasposizione che Villeneuve ha fatto per portare al cinema il colossale romanzo di Frank Herbert, uno dei miei preferiti di ogni tempo. In fondo ho visto il film solo una volta e queste sono le mie considerazioni dettate da una singola visione. Probabilmente cambierò idea quando lo vedrò altre volte in futuro. È inutile precisare che non sono un critico cinematografico e quindi queste mie considerazioni non sono di un professionista del settore, anzi valgono quello che valgono. Sono semplicemente le mie considerazioni di lettore e appassionato dal romanzo originale. Non ho mai fatto mistero di essere affezionato al film di Lynch, quello degli anni Ottanta, così criticato che a conti fatti è ricordato come un fallimento, un gigantesco buco nell'acqua. Eppure questo film di Lynch ha contribuito in maniera fondamentale a forgiare un po' il mio immaginario legato al romanzo di Herbert. Tuttavia devo essere onesto, la prima parte di questo Dune di Villeneuve mi aveva fatto paragonare il tutto al film di Lynch rimpiangendo un po' il film di Lynch che era riuscito a livello di atmosfere, di costumi e di ambienti a darmi qualcosa di più forse perché c'era più abituato. Poi il grosso problema del film di Lynch è che nella seconda parte naufragava completamente ed è ovvio che questo nuovo film di Villeneuve sia enormemente superiore anche perché Lynch non è minimamente memorabile nell'affrontare le grandi scene d'azione di massa quelle che invece vediamo portate sullo schermo così efficacemente dal regista canadese. Questa seconda parte mi ha restituito quello che nel film di Lynch mi ha sempre attirato cioè la capacità di realizzare un'opera di fantascienza che allo stesso tempo però è anche antica che parla di una cultura millenaria proveniente da un altro mondo come quella dei Framing e anche in questo caso nel film di Villeneuve il Sitch, come viene realizzato comunica veramente una vita che viene da un'altra epoca e grandissima attenzione viene riservata ai dettagli per esempio i messaggi che vengono scritti in una lingua a parte oppure anche le scritte che appaiono sulla faccia di Lady Jessica questi sono tutti particolari che contribuiscono a dare una tridimensionalità al film e a renderlo veramente complesso inserito all'interno di una storia e di un universo e da fan del libro di Herbert sono il primo a riconoscere che l'opera di questo grande scrittore è enormemente strutturata dal punto di vista storico, sociale, economico, politico e religioso e poi c'è il deserto è chiaro che Villeneuve subisce una particolare attrazione verso questo paesaggio che già nel primo era stato così ben messo in scena con l'attenzione alle sabbie, ai colori tutto questo torna anche all'interno di questa seconda parte per non parlare dei vermi è sempre una gioia per un fan di Lynch vedere i vermi di Arrakis manifestarsi che cosa mi ha deluso? beh, innanzitutto la mancanza di Alia la sorellina di Paul Atreides nel film di Lynch c'era e vedere se questa bambinetta che aveva già tutti i poteri della madre, del fratello e che zittiva la reverenda madre Bene Gesserit col potere della voce e controllava la sua mente beh, era veramente un'emozione qui Alia purtroppo non c'è e viene sostituita semplicemente da un feto nel grembo di sua madre con la quale la madre continua a interloquire a conversare in Somalia viene sostituita da un feto con potere di preveggenza una cosa a suo modo affascinante poi a Paul si manifesterà anche una visione di questa sorella interpretata da Anya Taylor-Joy forse la vedremo in un futuro film della saga per adesso però purtroppo non c'è traccia di questa bambina che viene considerata un mostro dalla stessa reverenda madre ma che ha così grande potere alla fine del romanzo e ricordiamo che è lei a far fuori il barone Arconning non è Paul che arriva e lo scanna per vendetta una grande differenza di questo film rispetto al romanzo originale e ovviamente anche al film di Lynch è il ruolo dato a Chani l'innamorata di Paul Atreides quella che nel libro è anche la madre dei suoi figli nella vicenda originale Chani è la figlia di Liet Kynes l'ecologo imperiale che in realtà è il capo dei framing personaggio che nella prima parte del film di Villeneuve è stato trasformato in una donna quindi Chani non è la figlia di Liet Kynes non voglio essere tacciato di essere un erbertiano tossico uno di quelli che va al cinema con il librone sotto braccio mettendo gli errori russi e blu come i professori universitari sono conscio che la letteratura e il cinema siano due linguaggi diversi quindi non serve venire a ricordare ogni volta mi sento solo di fare questo ragionamento perché secondo me Chani rappresenta il più grande tradimento nei confronti di un personaggio del romanzo originale questo perché la Chani del romanzo di Herbert spalleggia sempre Paul e non lo mette mai in discussione anzi è anche dalla parte di sua madre come tutti i framing crede in lui mentre in questo film Chani ha una parte molto più di contestazione del ruolo di Paul come potenziale messia in mezzo a una popolazione come quella dei framing che è fatta di praticamente tutti invasati religiosi che credono che Paul sia il messia che deve arrivare e ne riconoscono le azioni come inserite all'interno di un grande disegno che noi sappiamo essere stato indotto dalla propaganda delle Bene Gesserit invece in questo caso Chani interpretata da Zendaya è l'unica voce dissenziente è la scettica razionalista la separatista laica del Burmini se mi si concede una citazione alla serie tv Boris alla fine addirittura Chani rompe direttamente con Paul non accetta che questi sposi la figlia dell'imperatore se ne va e quindi sembra diventare una vera antagonista di Paul in maniera assolutamente inedita se confrontata al materiale originale di Herbert forse la Chani del romanzo oggi non è più attuale bisognava cambiarla bisognava creare un personaggio molto più volitivo indipendente e ribelle capace di dire anche no alla controparte maschile a mio modo di vedere Chani rappresenta una delle facce del potere femminile o meglio uno dei possibili esiti di come le donne all'interno di questo film di Villeneuve si relazionano nei confronti del potere noi vediamo che ci sono tutta una serie di donne a cominciare dalla reverenda madre delle Bene Gesserit interpretata da Charlotte Rampling una che vive in nome della politica per sistemare tutte le pedine al posto giusto e poi c'è invece Jessica la madre di Paul che utilizza in maniera molto cinica e disinvolta la profezia seminata dalle sue consorelle a Arrakis per avvolgere la situazione a suo vantaggio a suo uso e consumo ovviamente tutto questo passa per il figlio Paul e poi c'è la figlia dell'imperatore interpretata da Florence Pug che è stata allevata dalla reverenda madre Bene Gesserit e deve avere a che fare anche lei con la politica per salvare la sua casata e suo padre e poi c'è Lady Fenring interpretata dalle assi du che rappresenta il potere seduttivo femminile è Lady Fenring che seduce Fade Rauta il nipote del barone Arconning un'altra cosa che mi ha lasciato sconcertato durante la visione di Dune parte 2 esattamente come era successo nella visione di Dune parte 1 è la totale superficialità di personaggi come i Mentat e la Gilda Spaziale non si tratta di mancanze da poco in quanto i Mentat i computer umani e i rappresentanti della Gilda Spaziale fanno parte a pieno diritto di tutto il variegato e composito un mondo politico dell'universo di Dune che si regge sulla contrapposizione tra l'impero e le grande casate tra le Bene Gesserit la Gilda Imperiale e i Mentat non si spiega bene chi siano questi Mentat non si dice che sono i computer umani che hanno sostituito le macchine che sono state combattute nel Jihad battleriano e che quindi devono arrivare a una potenza di calcolo incredibile che gli altri uomini non riescono a raggiungere o meglio lo si dice poco non viene sviluppata questa cosa ed è una grossa mancanza perché noi invece sappiamo che Paul Atreides nel romanzo doveva essere un Ducamentat e questo particolare non fa altro che assommarsi a quello che Paul si trova a diventare una volta che ha contatto con la spezia con le visioni con una visione superiore dopo aver scoperto di essere il Quisazza l'Essere Supremo Paul sembra acquisire tutta una serie di qualità che lo rendono una specie di divinità un'aura da semidio che lo rende sovrapponibile ad altri personaggi molto importanti all'interno dell'economia della saga cioè i navigatori della Gilda che grazie alla spezia il melange quello che si trova su Arrakis possono guidare le navi nell'universo e quindi spostare l'astronavi e dunque portare persone e anche eserciti da una parte all'altra tutto questo non c'è all'interno della riflessione del film così come manca del tutto la presenza della Gilda su Arrakis ricordiamo che Paul quando minaccia di distruggere tutti i raccolti di spezia con le atomiche non minaccia solo l'imperatore ma minaccia anche e soprattutto la Gilda spaziale e questo impedisce alle grandi casate di reagire alla presa del potere da parte di Paul esattamente il contrario di quello che invece si vede nel film il film finisce con Paul che comincia la guerra contro tutte le grandi casate mentre il romanzo finisce con tutte le grandi casate e l'imperatore che sono obbligati a sottostare alla sua volontà per via della potentissima Gilda spaziale la Gilda è la chiave che apre e chiude tutte le porte senza la spezia l'universo si blocca un'altra cosa che non mi è piaciuta è Lady Fenring che fa la prova del Gonjabar su Fade Rauta il nipote del barone Arconning una scena che non c'è minimamente nel romanzo solo Paul si sottopone alla prova del terribile Gonjabar grazie alla sua formazione data dalla madre una Bene Gesserit è interessante invece che le scene girate su Jedi Primo siano state fatte in bianco e nero con una prospettiva del tutto deformata quasi a suggerire il fatto che su Jedi Primo non ci sia il sole o comunque il sole sia completamente bruciato dall'inquinamento che c'è sul pianeta stesso anche se non mi ha fatto impazzire la rappresentazione degli abitanti che sono tutti aumentati digitalmente e sembrano tanti piccoli cloni pronti per esaltare il dittatore di turno cioè il barone Arconne una nota negativa per l'imperatore Padiscià Shaddam IV interpretato da Christopher Walken che ho notato parecchio fuori ruolo e molto svogliato come se non ci credesse molto una rappresentazione senile di un imperatore che brancola nel buio e non sa assolutamente cosa fare insomma Villeneuve ha trasposto in maniera molto efficace alcune idee di Herbert mentre ne ha tralasciate altri di molto importante per il romanzo si è preso alcune libertà come sempre fanno i registi e come sempre fanno gli sceneggiatori quando adattano un'opera letteraria e la traspongono al cinema questo tuttavia porterà a delle conseguenze ben precise in un prossimo film della saga che a quanto risulta sarà il Messia di Dune siamo di fronte a un film registicamente visivamente straordinario ma alcune scelte che sono state prese insomma mi hanno lasciato perplesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti